E' il nostro grande fotografo, vieni un attimo, avvicinati Avvicinati, Alessio Giondi, te lo dimentichi sempre Sì, sì, adesso va in onda il trailer Perché lui ha seguito Datemi un microfono, un secondo, un solo secondo Facci sapere di Kai Schirmacher Allora L'ho seguito da stamattina alle 6 l'impresa di Kai Che con... Cosa ha fatto? Kai è un tedesco Quindi tedesco è un disabile di gambe E' un grande nuotatore E' partito da Cagliari E' partito da Marina Piccola Alle 6 del mattino E' arrivato a Villa Simius alle 19.30 Quindi dopo... Tu l'hai seguito in barca? L'ho seguito all'orgomale, mi ha fatto tutto il servizio fotografico E quindi un'impresa eccezionale Visto anche le condizioni non solo dell'atleta Sirocco Ma anche del mare E quindi alla fine ha vinto la sua... Un trionfo Sì Verrà a trovarci presto in trasmissione La settimana prossima E a fine puntata probabilmente la regia riuscirà a regalarci anche qualche... Qualche scatto Scatto del nostro Alessio Todde Grazie Alessio Abbiamo il trailer Abbiamo il trailer Grazie a tutti Grazie a tutti